Prima di entrare nel messaggio, volevo passare un minuto in preghiera. Stamattina mi pregavo per il messaggio di oggi, mi è venuta un'immagine. Volevo che prima che entrassemo in preghiera, condividere questa immagine. L'immagine era la seguente. Vi ho messo una parola molto specifica nel mio cuore. Vi confesso che alcune volte René dice, dai, porta un messaggio in chiesa. Magari per René è più naturale preparare il messaggio, per me è un pochino più faticoso, quindi non lo so, devo vedere. Se Dio mi dà un messaggio, porto questa cosa. E qualche settimana fa leggevo, sto facendo questo piano, un anno di lettura della Bibbia, leggevo proprio una storia, in mezzo alla storia mi è saltato un versetto e mi è venuto carissimo, guarda, devi dire questa cosa. Quindi porto così questo messaggio a noi. E forse sarà un messaggio specifico per una persona sola. Forse Dio ha fatto questa domenica solo per te, ma l'immagine che avevo stamattina era che mentre dichiaravo questo messaggio che Dio aveva dato, c'era tipo questa nuvola con tante chiavi che uscivano mentre questa parola era dichiarata. E questa chiave era tipo un invito che alcuni di noi avranno una chiave per afferrare una chiave, forse una parola, un concetto, qualcosa, e questa chiave potrà sbloccare qualcosa nel nostro cuore. Quindi siamo qualche secondo in silenzio, ci invito a essere in silenzio e parlo con un modo molto sincero. Signore, parlami, dammi una chiave stamattina, va bene? Sì, signore, noi siamo qui per te. Vogliamo ascoltare da te, signore. Quindi io chiedo per ogni cuore qui, compreso il mio, signore, che tu puoi parlarci stamattina, dacci una cosa diretta, nutri, signore, il nostro ananimo. Tu sai come siamo arrivati, signore, e della tua bocca si può uscire una parola specifica per ogni persona presente qui, signore. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Allora, non lo so voi, ma il mio momento preferito, quando prendo un aereo, è proprio il momento del decolo. Qualcuno è con me? Quando sono lì, no? Gioca, mano alzata. Nel momento del decolo, perché? Proprio nel momento del decolo stiamo guardando così, stiamo vedendo, e da lì, soprattutto, sai cosa mi piace vedere? Le strade, magari, quando stiamo parcheggiando per andare in aereo, tutto sembra così complesso, ma nel momento del decolo, quando siamo quei pochi secondi sopra, è quasi che comincio a vedere le vie e le strade da sopra. È quasi come comincio a vedere che non è solo quella macchina lì, quell'edificio, una persona, ma vedi un po' il quadro più grande. Vedi, quella macchina, sì, è lì, ma forse c'è, non sa che davanti ci sarà quello, non sa che magari arriva questa nuova. È proprio o quando l'aereo sta sopra una città, vedi una visione più grande, e noi come persone siamo lì presi, nelle nostre cose, ma per pochi secondi in aereo riusciamo a vedere una visione più grande. Ecco, dico questa cosa, perché il concetto della parola che ho avuto nel cuore di condividere e che vediamo nella storia è il seguente. Noi non abbiamo il quadro completo. Noi non abbiamo il quadro completo. Vediamo insieme una storia di Giosuè, in un momento molto specifico di Giosuè. Lui era proprio giù, 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 perché non aveva il quadro completo. E vediamo il concetto che possiamo fidarci di Dio anche quando non abbiamo il quadro completo. La cosa che faremo è il seguente. Vediamo la storia di Giosuè e già vi dico in altissima, ci sarà come se fosse un film, una pre-pausa e una pausa. E proprio in questa pausa fermeremo lì un attimo. E mentre leggiamo questa storia, l'incoraggiamento è il seguente. Sai, le storie della Bibbia, tanti di noi magari le conosciamo e vediamo tante volte. Sì, si dico ai ragazzi, Mosè è sì, Dio ha aperto, il mare è rosso, no, no, no. Sai, tipo, già sappiamo un po' le cose. Però c'è tanta potenza leggere e entrare nella storia e pensare come la persona che è qui, quale informazione quella persona sapeva e non sapeva in quel momento specifico. Ha senso? Nel senso, in quel momento, noi sappiamo già come andrà finita la storia, però la persona che è in mezzo, Giosuè in specifico che vediamo, in quel momento cosa sapeva e cosa non sapeva. Allora, la storia di Giosuè, abbiamo anche fatto una serie non troppo tempo fa in chiesa e praticamente è questo leader giovane che praticamente per 40 anni era nel deserto. Allora, mettiamoci nei suoi panni. La persona precedente era Mosè. Questo non è proprio semplice da entrare, no? Mosè muore. Ok, chi non lo sapeva? Spoiler, Mosè è morto, ragazzi. Mosè è morto, cioè Giosuè è lì e lui sa una cosa, ha un compito semplicissimo, cioè conquistare la terra promessa. Mamma mia. Non è sempre proprio... Eh, gioca, dice, non mi sembra esatto, gioca. Bravo. Non mi sembra proprio semplice. Giosuè aveva il compito di conquistare la terra promessa. Solo c'erano alcuni problemi. C'era un fiume davanti che doveva attraversare. C'era una terra che era già con degli abitanti più potenti di loro, che avevano più gente di loro, eserciti più grandi. Allora, noi sappiamo bene come va la storia. No, andrà tutto bene, Giosuè conquisterà la terra. Ma lui non sapeva queste informazioni. E qual è il momento per pausa? Nei primi capitoli di Giosuè, Dio riesce a dare a Giosuè vittoria dopo vittoria dopo vittoria. Ok? Lui è lì, non sapeva come fare. All'inizio di Giosuè comincia con Dio dando una parola. Quattro volte, Giosuè, sii forti e coraggioso. Quattro volte. Sii forti e coraggioso. Sii forti e coraggioso. Proprio l'incoraggio lo impodera così. Sii forti e coraggioso perché io sarò con te. E lui, ok, immagino Giosuè, forse nella sua tenda avrà dei momenti. Sii forti e coraggioso. No, tutto così. Sii forti e coraggioso. Aveva questa cosa. Qui già un parentesi che non c'entra con il messaggio, ma forse questo sarà per uno di noi che aveva notato questo, per una persona che aveva notato il messaggio. Queste parole, sii forti e coraggioso. La prima volta che ha sentito Mosè ha dichiarato su lui in Deuteronomio, prima. Giosuè riceve questa parola quattro volte in Giosuè 1. Però avevo notato in dettaglio dopo, dieci capitoli dopo, quando il popolo è in mezzo alla battaglia e la gente è in un momento critico, Giosuè prende il popolo e dichiara il popolo. Voi, siate forti e coraggiosi. Cioè, la parola che Giosuè aveva ricevuto su lui era talmente dentro lui che arrivato nel momento giusto lui dichiara agli altri. Capito? Per alcuni di noi è questa una parola ma magari Dio cosa che hai sassurato nel secreto aveva detto a te. Giù tu già sai le persone hanno dichiarato a te. È arrivato il momento anche di dare queste parole e dare a altri. Ok? Chiuso parentesi e continuiamo nella storia. Lui è qui sii forti e coraggiosi. Adesso va a conquistare la terra. Che succede? Vanno a questa città manda due spie la storia di Rabi non entrerò nei dettagli ma perché dico questa cosa? Arrivano i Rabi e queste due spie ascoltano da Rabi cosa stava pensando il popolo dall'altra parte che loro non lo sapevano. E Rabi dice noi abbiamo sentito le storie di Dio che vi guidavate dall'Egitto e la gente è qui quando ha sentito queste storie dice la seguente parola il nostro cuore è venuto a meno. Cioè noi siamo impauriti delle storie che Dio aveva fatto su voi. E gli spionano mamma mia Dio già stava preparando questa cosa. E prende questa parola torna a Giosuè infatti due volte dice il nostro cuore è venuto a meno che nella storia di oggi diventerà importante anche. Lui prende questa parola arrivano i spie Giosuè non puoi capire la gente ha paura Giosuè avanti ok ok lui sta lì già prima vittoria si è forte e coraggioso la gente ha paura c'è il fiume Giordano lì arriva la storia Dio apre il fiume Giordano con il popolo quando mettono il piede lì apre il fiume Giordano una vittoria pazzesca ripeto non entrerò nei dettagli ma solo per dare la visione vittoria dopo vittoria dopo vittoria apre il fiume Giordano e addirittura il momento più alto magari che è conosciuto a Gerico conosciamo la storia vero una città forte con le mure così arriva questo angelo o dice che è un angelo dell'esercito e dà una chiave di una strategia a Giosuè Giosuè tu devi girare sette giorni poi giri sette giorni quando giù urla il popolo le mure si cadranno lui obbedice fa questa cosa le mure boom la gente conquista Gerico e finisce il capitolo 6 così forte praticamente conquista Gerico tutto quanto finché finisce il capitolo 6 dopo la vittoria dici così il capo dell'esercito dei signori disse a Giosuè togliti aspetta Giosuè ah qui finisce così il signore fu con Giosuè la sua fama di lui si sparse per tutto il paese il signore fu con Giosuè la sua fama si sparse per tutto il paese allora ditemi voi noi non sappiamo l'informazione in futuro in questo momento della storia quali sono le sensazioni o le cose che prova Giosuè qualsiasi parola viene in mente ditemi come si sente lui dopo vittoria 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 dai eh ecco forte potente esatto altro incoraggiato fiducioso Dio è com'è si forte coraggioso abbiamo già vinto la prima città adesso liscia no la prima città si è andata così è un momento di vittoria e adesso questa è il prepausa arriva la storia di oggi perché stanno per conquistare la seconda città e il testo ci dice così Giosuè 7 e 2 Giosuè mandò degli uomini a Gerico a Dai che avvicina a Betà la seconda città all'oriente di Betà e disse loro salite esplorate il paese ok devono andare lì salire esplorare e quelli salire non esplorarono ai poi tornarono da Giosuè e gli dissero non occorre che salga tutto il popolo ma salgano 2-3 mila uomini e sconfiggeranno Ai continuo così non stancare tutto il popolo ma andando là perché quelli sono pochi così vi salire del popolo circa 3 mila uomini i quali si desero alla fuga davanti alla gente di Ai mi fermo qui un attimino che succede vanno nella prossima città e lui manda della gente vedere quanta grande è la città e torno guarda Giosuè piccolina abbiamo appena fatto Gerico Gerico era proprio Ai è piccolina manda 2-3 mila uomini non abbiamo bisogno di faticare tutto il leggertito finita così seconda città andiamo la forza e lui manda ok mandiamo 3 mila città continuo davanti e la gente di Ai ne uccise circa 30 e la gente di Ai ne uccise circa 36 e li inseguì dalla porta fino a Sebarin e li misi in rota nella dicesa e il cuore del popolo viene a meno e si sciolse con acqua cioè che è successo hanno mandato 2-3 mila però per la loro totale sorpresa che è successo loro sono stati confiti infatti 36 uomini gioca 36 esatto 36 uomini uccisi giusto e arrivano la gente e dicono Giosuè non sappiamo spiegare questa cosa noi siamo andati lì hanno già ucciso è successo così e il cuore di tutto il popolo di Giosuè viene la stessa parola viene a meno cioè il cuore che veniva a meno dei nemici quando sentivano del popolo di Israele adesso il popolo di Israele che ha questo in inglese è melted with fear tipo è talmente tanta paura che si scioglie con l'acqua in questo momento Giosuè vittoria dopo vittoria dopo vittoria praticamente a questo momento dice ma signore cosa è successo state con me signore cosa è successo non mi avevi detto si è forte e coraggioso non era la promessa vai conquista la terra io ho seguito tutte le cose non ho fatto niente di sbagliato e ecco in questo momento qualche parola come si sentiva Giosuè quale stessa parola viene in mente prego i bambini oggi sono fortissimi mamma mia un po' impaurito esatto era impaurito deluso tristi esatto esatto era secondo me deboli e totalmente confuso pensate aveva una promessa la terra doveva essere conquistata e adesso infatti seguiamo il testo abbiamo una finestra del cuore di Giosuè e ci dice così Giosuè si strasciò le bestie gli si gettò il viso a terra davanti all'arca del Signore stetto così fino alla sera egli con gli insiani di Israele si gettarono del povero di suo cuore cioè lui ha detto non so cosa è successo non sta capire le bestie sta lì fino alla sera e qui ci dà proprio la preghiera che dà una finestra nel suo cuore guarda cosa dice Giosuè disse alla fine di tutto questo tempo che stava lì in silenzio ai Signore Dio perché mi hai fatto attraversare Giordano a questo popolo per darci mano agli amorei e farci perire dopo o se noi ci fossimo pure accontentati di manere di là da Giordano ahimè Signore che dovrò a dire ora che Israele ha voltato le sue pali ai suoi nemici i cananei e tutti gli abitanti del paese lo verranno a sapere e ci cercheranno e faranno sparire i nomi della terra e tu che farai con il tuo grande nome cioè lui sta lì male e la prima cosa che dice è perché allora ecco questa è la parola che volevo dire qualcuno di noi si sentirà proprio in questo momento che ha avuto vittoria dopo vittoria dopo vittoria e aveva forse una promessa aveva qualcosa che era sicuro e fiducioso che Dio gli aveva dato da fare e l'improvviso è successa una situazione che tu sei lì dicendo ma aspetta forse ho sentito male forse questa cosa non andrà proprio come immaginavo io infatti questo momento qui questa è la pausa di Giosuè di Giosuè lui voglio rileggere un'altra volta sì ancora esatto esatto lì hai perché il prossimo bravissimo la prima cosa perché mi hai fatto attraversare il Giordano vero no quando siamo in queste situazioni il perché è la cosa più semplice da dire no perché signori è umano perché qui volevo dare un incoraggiamento sto vivendo una situazione è ancora troppo in mezzo per condividere però era una situazione che Dio può risolvere così se vuole può risolvere così e non lo fa da un po' di tempo e sai una mentora mia che sta camminando con me dice ma tu hai già pregato prega questa situazione perché e condivido questa cosa niente per vantarmi perché questa è la grazia che ha dato il Signore ma condivido questa cosa che sia una grazia che tanti possono sperimentare lì se cammini talmente vicino dal Signore da un po' c'è una fiducia perché conosci il Dio che serve io posso dire rispetto senza vantare ma dando la gloria a Dio non mi è mai venuto di chiedere perché sai perché perché io conosco il Dio che serve io conosco che Lui mi ama talmente nel profondo si gioca ah sì che io quando conosco Dio so il suo carattere so le sue intenzioni che dico Lui lo sa lo sa cosa sto vivendo io lo sa se voleva risolvere così lo avrebbe fatto mi fido perché io non ho il quadro completo qui Giosuè non ha il quadro completo dice perché e poi continua grazie faccio avanti di niente brava Hanna per essere con me è ancora passato e lui fa il seguente perché e poi dice perché mi hai fatto attraversare il Giordano in questo pollo per darci mano all'amore cioè perché tu hai fatto questo in passato poi vedete con me continua dice oggi fossimo pure a contentarmi di rimanere di là del Giordano cioè lui ha detto signore perché se abbiamo attraversato quel giorno era meglio rimanere nel deserto ecco quando siamo in questo posto proprio dove Giosuè possiamo numero uno che dicevi dubitare del passato cioè dubitare era meglio che non ci fossimo dubitare del passato adesso ho perso signore meglio stare dall'altra parte pensa se lui non si fosse usato di questa situazione la storia sarebbe finita in questo momento guardiamo indietro e non abbiamo la visione proprio giusta perché dubitiamo del passato lui aveva appena già attraverso la terra promessa e poi a contentarci con meno nel senso lì se noi fossimo dall'altra parte almeno non saremmo una vittoria ecco questa posizione di non avere tutto il quadro abbiamo la tentazione di a contentarci con meno signore era meglio stare dall'altra parte ma io sto qui per dire a una persona se Dio ti ha dato una promessa se Dio si è stato con te non lasciare che le tue paure in quel momento specifico perché io e te non abbiamo il quadro completo diminuisca lo scopo della promessa del signore amen perché le nostre paure non devono definire quanto è il suo scopo è questa la promessa contentarci di passare e poi in questa situazione lui comincia anche a offuscare il futuro perché dice cosa dirà nel futuro si torna un pochino indietro lui dice così grazie guarda come lui pensa il futuro i cani nei tutti gli abitanti del paese lo vedranno sapere i cia cercheranno e faranno sparire il nostro nome della terra tu che farai per tuo grande nome cioè adesso noi abbiamo appena perso tutta la gente sentirà di questa storia e adesso perderemo e il tuo nome sarà sparito vedi lui vede il passato di modo dibutoso e vede il futuro del modo del modo offuscato cioè lui non vede bene questa situazione perché non ha il quadro completo siete con me? sì però come risponde il Signore a Giosuè a me e a te ora era successa una cosa che Giosuè non lo sapeva quando erano a Gerico abbiamo le informazioni nel capitolo 7 che uno di loro aveva preso un mantello che non doveva fare Dio è stato esplicito non prendete niente di quella città Acano aveva preso questa cosa e per questo il popolo aveva una conseguenza da fare ma Dio risponde così Dio risponde così esatto grazie il Signore dice a Giosuè alzati alzati perché lì stai così prostato con la faccia a terra alzati qualcuno ha bisogno di sentire questa parola alzati sei lì bloccato non sai cosa è successo vuoi tornare in passato stai offuscando il futuro ma Dio sta dicendo a te stamattina proprio te alzati perché perché ne stai così costato a faccia in terra perché stai lì lamentandosi dicendo dubitando il mio carattere alzati afferra questa parola stamattina alzati e il Signore gli spiega Israele ha peccato essi hanno transgredito il pato che avevano comandato ad osservare continua e lui spiega hanno perfino preso l'entretto che l'hanno rubato hanno mentito e loro hanno messo fra il loro oggetto continua Gesù spiega perché i figli di Israele non potranno resistere ai loro nemici ne volteranno le spalle davanti a loro perché sono diventati egli stesso interdetto io non sarò più con voi se non distruggete l'intermezzo e in mezzo a voi allora che è successo Dio dice alzati Giuse grazie alzati Giuse perché in questa situazione c'è una situazione che tu non lo sapevi tu non avevi il quadro completo c'è una persona che ha preso questa cosa come continua la storia loro identificano chi è questo H cosa avevano fatto proprio agiscono in questa situazione di eliminarlo così aveva chiesto Dio e da lì dopo dopo che hanno fatto questa cosa devo tornare a Ai e Dio gli dice non ti scoraggiare torna a Ai e lui loro si prendono Ai e continuano lì prendendo di tutta la città allora la storia continua così però state con me in questo momento di pausa perché è bello andare davanti e dire no Dio è andato tutto bene fai qui però in questo momento di pausa quando non sappiamo è proprio lì che abbiamo bisogno di essere ricordati che esiste un grande Dio che lui si è per bene per il nostro bene che lui si ha il quadro completo e che lui dice a me e a te alzati alzati e confida che io ho il quadro completo vorrei concludere vedendo una scena sono sei minuti ma chiedo a Mila di aiutare a tradurre sarà in inglese con i sottotitoli e poi faccio una conclusione ma è una storia che secondo me c'entrava anche qui prego Anna non so quanto siete riuscite a seguire perché doveva essere il sottotitolo ma praticamente quando è diventata c'è che il papà è sparito quando gli serviva di più e lei perché non c'è proprio nel momento che mi serve di più invece lui proprio per farla forte è dovuto lasciare che lei trovasse le sue forze nelle situazioni così riusciva a correre e andava avanti perché se fosse vicino a lei lei non avrebbe avuto la forza per dire ed ecco questa parola è per me forse per te anche sai nelle situazioni che diciamo signore perché poi hai sparito proprio nel momento che mi serve di più io non ho il quadro completo sono qui però Dio sta ricordando stessa mattina figliola mia figliola mio io ci sono sempre stato sempre stato ci sono alcune situazioni che devo lasciare a te avere le forze per affrontare con più potenza così tu esperimenti ancora di più la potenza perché tu sei stato creato a essere nel nome di Gesù Amen